Allora, come sta ruendo il business travel? Devo dire che l'evoluzione è nella tecnologia, è sempre nella tecnologia, nella digital integration e transformation dell'azienda, quindi le aziende stanno imparando a utilizzare gli strumenti che abbiamo iniziato a proporli sul mercato. D'altra parte anche i vettori e anche le agenzie che fanno business travel devono essere proattivi con visioni sempre più aperte. L'utilizzo di Big Data ci dovrebbe aiutare noi e anche le aziende a scegliere meglio i trend di mercato. Devo dire che c'è stato quest'anno un incremento dei viaggi d'affari importante, penso che sarà anche l'anno venturo nonostante i trend economici, perché c'è una componente delle aziende italiane che va all'estero, vuole conquistare mercati, vuole crescere e indipendentemente dal trend interno cresce. E questa è la storia, un po' di Uvet, ma anche delle aziende che Uvet serve, che sono la creme dell'Italia, dalle piccole alle grandi.